Ogni giorno che passa ci sentiamo sempre meno sicuri nel nostro quartiere, nella nostra città, nella zona dove periamo. Abbiamo paura a tornare a casa da soria sera e percepiamo anche la presenza dei migranti come dei pericoli per la nostra incolumità. E questo è il quadro a tinte molto fosche che viene fuori dall'ultimo rapporto dell'Istat. Un senso di insicurezza, dice l'Istituto di ricerca dello Stato, che peggiora decisamente. Pensate che solo la popolazione femminile, il 36% delle donne, dice che non va mai in giro di notte senza essere accompagnata. Dati che ci fanno capire come appunto l'insicurezza aumenta ed aumenta da Trieste fino al sud. C'è un dato per esempio della percezione di sicurezza nel luogo di residenza che è in netto peggioramento. Il 12% degli italiani intervistati dall'Istat dice di avere paura tra le strade della propria città rispetto al rapporto precedente. Teniamo conto che questo rapporto è stato condotto da Istat tra il 2015 e il 2016 e il rapporto precedente risale al 2008-2009. Migliora leggermente il giudizio sul degrado sociale e ambientale, però diciamo è diminuito il timore di subire per esempio uno scippo, una rapina, il furto dell'auto o una violenza sessuale. Il 23% dice l'Istat dei cittadini è stato testimone di un atto di vandalismo contro il bene pubblico. Il 12,5% vede persone che si drogano e assistono a scene di spaccio. È un quadro, vi dicevo, a tinte fosche, ma soprattutto c'è un'insicurezza che diventa anche percezione della sicurezza trasmessa dai media e soprattutto che viaggia attraverso i social. Quindi ogni giorno che passa percepiamo l'idea dello stare fuori dalla nostra casa come un pericolo, ma nemmeno in casa ci sentiamo sicuri. E quindi probabilmente anche questo incide non solo su quello che è stato detto e scritto a ridosso delle campagne elettorali o in quella che ormai possiamo definire è una campagna elettorale permanente, perché ne abbiamo appena conclusa una ma ci stiamo preparando per le europee e di cose da rivendicare verso l'Europa, ne abbiamo tante, ma abbiamo anche una grande paura verso chi viene da un altro paese e quindi non conosciamo e non riusciamo per niente a collocare nel nostro entourage. Insomma, dati su cui riflettere e soprattutto l'idea che abbiamo più bisogno di sicurezza, che poi questa sicurezza nei prossimi mesi possa venire aumentando la legittima difesa. Questo è tutto da dimostrare, ma sicuramente abbiamo tanta tanta più paura.